Piano ragazzi, piano? Vieni, vieni, tranquillo. Cioè, nel momento talmente intimo che sono un grande uomo della televisione, un grande uomo della comunicazione, soprattutto una persona, un amico. Qual era la scifra giornalista? Com'è? La scifra giornalista. La curiosità, è un uomo curiosissimo, tant'è vero che è stato capace di scovare persone, talenti, che poi hanno riempito questo paese in tutti i settori. Secondo me la curiosità è la qualità migliore di un giornalista, che l'aveva tutta. Ha fatto anche la storia con la lotta alla mafia. Come? Con la lotta alla mafia ha fatto anche un po' la storia giornalista. Ma è rischiato la pelle. Insomma, mi pare che più di questo non potesse fare. È andata bene, per fortuna. Un ricordo particolare che lo rega? Ma, insomma, io sono stato tante volte da lui al senso show. Ovviamente sono andato per i bottini giornalistici, quindi, però, insomma, prima della trasmissione era sempre bellissimo di chiacchierare insieme a lui. Grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao, buon lavoro.